Ciao a tutti ragazzi, allora io sono The Assetting Blaziken, Blaziken Ehm, oggi stiamo su Official Games 100 E aprirò, ehm, queste qua, non so che cosa, l'ho trovato in un pacco di vercine Kinder, 3D cards, Animal Action Veramente non so manco perché sto facendo questa apertura, quindi contiene solo 3 carte Quindi non so, boh, non sapevo che fare quindi lo sto facendo Sto scritto Focus, ok Apriamo le carte Ecco, non si apre Un attimo, ok Vediamo Ah, è una carta, addirittura, wow E cioè, un pò pagano, wow, veramente Ehm, non so che cosa faccia Buh, ah, per l'aver capito Si fa Così Carina idea E qua sono tutte le cose che dicono, beh, cos che non ce l'ho, beh, tutte le cose E' molto bello Ehm, ecco Ehm, ho trovato insieme questa bruscina Ehm, che vediamo la prossima Ehm, che vediamo la prossima